Ciao, con oggi entriamo nel cuore del poema dell'Eneide, affrontando appunto quelle che sono le più importanti novità rispetto al modello omerico, che sono proprio in relazione al protagonista. Cioè Enea è un personaggio che di omerico vedremo a ben poco. Quindi questa videoazione tratta esplicitamente di queste differenze così importanti che designano quindi ancora una volta un'opera che entra in competizione con il proprio modello. Virgilio cerca di superare, non soltanto di imitare, come era avvenuto per alcuni letterati italiani e romani, ma cerca di emulare, cioè di entrare in competizione e superare. Gli erogamerici incarnano una passione, un vizio, una qualità, ecco, una virtù. Al contrario Enea lo troviamo sempre così titubante e in qualche modo ci rende partecipi la scrittura di Virgilio di questi tormenti interiori che sembrano attanagliare l'anima del protagonista. Lo troviamo appunto a volte, in alcuni atteggiamenti, contraddittori fra di loro. Mentre gli erogamerici sono, probabilmente, sempre uguali a se stessi. Ecco, Virgilio e poi di Achille lo associamo appunto con l'ira, la cattiveria, la crudeltà. A Ulisse lo associamo con l'astuzia e sono sempre così, no? E' l'uomo che sta a trovare il pornos, l'uscita, Ulisse, no? La via di uscita in ogni frangente in cui si trova. Enea lo troviamo con comportamenti differenti, in contesti differenti, con relazioni differenti, in dipendenza anche delle persone con cui interagisce. Nei poemi epici il fatto, che possiamo dire, ho preso questa definizione così, quanto più generica possibile, ciò che si deve compiere, ecco il fatto, è ciò che deve compiersi, che si impone, nell'Elia dell'Enea, si impone su quello che vogliono gli dèi, sui capricci delle divinità e ovviamente schiaccia gli uomini. Nel caso specifico dell'Enea, il fatto vuole che Enea fondi la città destinata a dominare il mondo, Roma, che è la stessa città che in questo momento storico in cui Vergilio sta scrivendo è nelle mani di Augusto è questa dinastia, senza chiamarla così che sta in qualche modo instaurando a livello narrativo, perché di questo poi ci dobbiamo occupare questo orizzonte così uguale a se stesso che è rappresentato dal fato in qualche modo rappresenta una linea esistenziale ma anche, ripeto, narrativa oggettiva un qualcosa che non cambia mai un orizzonte in cui ci si possa riconoscere sia i personaggi protagonisti o antagonisti o aiutanti dei l'uno e degli altri ma anche noi alla fin fine anche noi come a suo tempo i romani, i lettori, i primi lettori romani ma anche noi possiamo riconoscerci perché appunto è un fato che appunto quasi tradizionalmente quasi geneticamente riconosciamo come onnipotente ma, e questa è la vera novità dell'Eneide ecco, sotto questa linea oggettiva Vergilio lascia intravedere perché non ne parla mai in maniera novecentesca ma lascia intravedere una linea che invece è soggettiva che rivela e rileva contemporaneamente i personaggi che a volte sono proprio in contrasto con il fato a causa che appunto poi vedremo in questa stessa videoazione l'evento più eclatante ma a causa di ragione che sono tutte interiori che con il fato esterno, oggettivo, immutabile non hanno niente a che vedere e per questo a mio parere che l'Eneide rappresenta la sua grande modernità perché questo tipo di approccio alla realtà è molto nostro noi nel fato, nella divinità non crediamo più abbiamo una vaga a volte era destino che succedesse così ma sono frasi fatte in realtà nessuno di noi crede che ci sia un disegno prestabilito su ciascun di noi quindi in qualche modo condividiamo questo questo così quasi scontrarsi costante questa tensione di orizzonti esistenziali un qualcosa di definito un qualcosa di oggettivo che si va scontrando contro un qualcosa che invece è di individuale che è di personale che è propriamente soltanto mio allora entriamo nel dettaglio della vicenda che volevo appunto con te esaminare dell'amore fra Enea e Didona e tralascerò alcune delle vicende più importanti per fermarmi su alcuni testi che mi pare sono più significativi di questo fato che incombe sui personaggi che vince sui personaggi però a prezzo di grandi dolori ecco questo è bello vedere perché non soltanto notiamo i dolori che evidentemente i personaggi dell'opera vivono e soffrono ma in qualche modo ci sentiamo noi con partecipi di queste sofferenze quindi c'è una forte empatia fra Enea, fra Didone, fra Virgilio e noi e tutti i lettori reali e ideali che nei secoli hanno letto e leggeranno le neide Enea è depositario di una verità assoluta questo qua lo sappiamo per cui sa che deve fondare Roma e per questo rinuncia sa rinunciare a affetti e desideri ed è per questo che l'amore per Didone che si sviluppa appunto nel quarto libro stiamo parlando di questo evidentemente è un errore è un errore un po' come l'avevano in qualche modo già considerato Lucrezio come in qualche modo l'aveva già considerato Catullo ti rimando alle video lezioni sulla concezione d'amore in Lucrezio e in Catullo perché è qualcosa di molto simile nelle neide sicuramente questo amore per Didone si configura nell'ottica di Enea come uno sbaglio la logica epica porta a superarlo bisogna, vabbè, lascia perdere questa donna tu hai un'altra missione dicevamo in un'altra video lezione ex querite antiquam madre cercate l'antica madre ma che sta a fare con questa donna sta a perdere tempo in questo contrasto fra appunto poi vedremo nel dettaglio fra quello che è la la missione sovra personale e quello che veramente c'è nel cuore di Enea beh, in questo Virgilio è veramente un maestro di umanità perché a volte anche noi ci troviamo davanti a un conflitto tra ciò che dovremmo fare e ciò che vorremmo fare ciò che siamo costretti a in qualche modo vivere e quello che invece avremmo voluto ecco, a volte da questo aspetto, ripeto maestro di umanità sicuramente Virgilio resta Giannebio aveva associato Didune alla vicenda di Enea quindi parliamo della antica della letteratura archaica in cui già c'era questa associazione ma ovviamente Virgilio non vive soltanto di questo influsso che è latino ma vive di altri autori greci che conosce a fondo Euripide da una parte con la tragedia Medea ma vedremo che sono anche altre le tragedie c'è un orizzonte tragico che c'è dietro questa vicenda di Didune ma anche, direi, forse soprattutto Apollonio-Rodio un po' più recente IV-III secolo a.C. perché? perché proprio Apollonio-Rodio lascia un grande spazio lo scavo psicologico nella vicenda d'amore fra Medea e Giasone per cui sicuramente questi sono i modelli che Virgilio ha davanti a sé questi sono i modelli e ovviamente Omero ma li supera ecco in qualche modo che vedremo Virgilio presenta Didune come condottiere ecco per questo mi è piaciuto mettere questa immagine qui condottiere fondatrice di città il termine Deidò da cui viene appunto il termine Deidone ci ricordiamo che il vero originario nome di Didone è Elissa il nome fenicio è Elissa viene chiamata Didone perché Deidò indica una donna capace di coraggio virele quindi una donna virago senza arrivare appunto a paralleli con Camilla eccetera però una donna forte primogenita breve storia primogenita del re di Tiro bello destinata a diventare regina ma viene contrastata proprio dal fratello che invece ambisce Pigmalione ambisce al trono Pigmalione toglie di mezzo il marito di Didone Sicheo per ovviamente per indebolire la linea dinastica per indebolirla politicamente per avere più agio di fare ciò che vuole e vuole ovviamente diventare re allora forse le fonti sono un po' discordanti su questo però per evitare una guerra civile Didone lascia Tiro con un largo seguito e comincia una lunga perignazione per i mari dalla Fenicia fino all'Africa fino alle coste libiche per poi entrare in contatto con il re Yarba per cui dei getuli una colazione dell'entraterra africano a cui chiede appunto c'è questo escamotà ci racconta questa storiella perché Yarba è impietosito da questa donna e dal suo seguito mi dice beh senti non ti voglio dire di no però praticamente te lo dico cioè guarda ti posso dare un appezzamento che al massimo è quello che viene ricoperto da una pelle di bue è un modo diciamo così elegante non so neanche quanto elegante per dire guarda ti do niente un pezzettino di terra però la furba di Done taglia questa pelle di bue in tante strescioline le mette in fila e effettivamente riesce a delimitare un'intera penisola che poi appunto è il territorio di Cartagine fondata secondo la tradizione nell'814 avanti Cristo e già questa piccola cosetta la diciamo nel senso che la guerra di Troia non c'è una data precisa ma insomma siamo più o meno intorno al 1250 avanti Cristo insomma Schliemann che sezione è che strato è dello scavo fatto da Schliemann per questo non mi interessa non so c'è uno scarto fra la vicenda diciamo originaria omerica legata ad Enea 1250 e l'800 che è invece la data di Done per cui Nevio associando Didone alla vicenda di Enea ecco si gioca quasi mezzo millennio quasi mezzo millennio di storia è una licenza poetica che evidentemente non stiamo qui a giudicare il primo libro si conclude con Didone che chiede a Enea di raccontare le proprie vicende le vicende da quando ha abbandonato la città di Troia in fiamme conquistata distrutta dagli greci e questo racconto occupa il secondo e il terzo libro il terzo libro appunto si conclude con un verso molto bello ti ricorderai in cui Enea anche che è un verso se vuoi meta letterario trova quiete trova pace nell'aver raccontato questa funzione quasi terapeutica che ha con sé la poesia l'arte il racconto e questo qua ovviamente non ci vuole non ci vuole fra oide per dirci che questo sicuramente è un modo per scaricare i propri dolori interiori quindi Enea si acquieta ma appunto in contrasto i racconti che Enea ha appena concluso invece hanno suscitato delle emozioni molto forti nella regina cartaginese e questo ha delle conseguenze vedremo ma la regina ormai ferita da grave affanno alimenta nelle vene la ferita ed è rosa da cieco fuoco e qua cominciamo a vedere dei termini vulnus dei termini che appartengono certamente alla lirica d'amore latina vulnus la solita metafora se volete niente di nuovo però è la metafora della ferita d'amore ecco vulnus come anche innis il fuoco altra metafora per indicare l'amore questo valeva nella letteratura greca vale nella letteratura latina e poi resterà nelle letterature europee moderne contemporanee ricorre nel cuore il forte eroismo dell'eroe il forte onore della stirpe si attaccano fissolamente alle fattezze e le parole nell'affanno dà alle membra l'acida quiete ecco questa quiete viene turbata dalla cura questa preoccupazione con la traduzione di canali è affanno che è un termine se volete petrarchesco con cui appunto viene indicata l'angoscia l'angoscia in questa cosa bella dell'innamoramento banalmente noi le chiamiamo le farfalle nello stomaco ma insomma ci capiamo cosa sta provando di doni e confida la sorella ecco ci dice un verso famoso agnosco vederis vestigia flamme ecco conosco dirà Dante poi quando Dante a Virgilio quando sta per incontrare ormai Beatrice siamo sulla sommità della montagna del purgatore il canto 30 ti ricorderai verso 48 più o meno appunto conosco i segni dell'antica fiamma quella antica fiamma che aveva legato Didone a Sicheo ecco la riprova adesso sentendo le gesta di Vienea però si dichiara ugualmente non disposta a tradire la memoria del marito defunto la sorella Anna interviene direttore incarnando in qualche modo quella che è la voce della razionalità e in qualche modo la voce della ragione di stato cioè cara sorella tu sei da sola donna al comando di un popolo che è circondato da sconosciuti presumibilmente appetibile perché diventerà appetibile fra un po' a molti forse ti conviene sposare Enea lui sta cercando una patria ha dei valorosi uomini al suo seguito forse questo matrimonio conviene e quindi spinge Didone a lasciarsi andare a palesare i propri sentimenti e questo avviene effettivamente nei versi successivi però mi piace per noi su questo verso cioè si brucia l'infelice Didone vaga invasata per tutta la città con la cerbiata colpita da frecce e continua tutta una similitudine tipicamente epica però mi piace per noi su questa infelix su questa furens l'amore ancora una volta è vista come come furor come demenzia l'amore è visto da questi poeti abbiamo detto già citato Lucrezio come un qualcosa di irrazionale totalmente irrazionale Didone è figlia in qualche modo è vittima di questo sentimento allora questo amore è talmente folle che appunto allontana Didone dai propri doveri di regina di fondatrice infatti le torre innalzate non s'alzano più la gioventù non s'allena le armi e non preparano i porti le difese sicure per la guerra pendono le opere interrotte e minacce ingenti di muro ed una macchina riguagliata al cielo quindi si fermano tutti i lavori che stanno costruendo la cartia la città nuova neapolis che è appunto cartaglio si ferma tutto perché lei non riesce più a comandare a dare ordini quali doveva dare giunone e venere sembrano d'accordo nel fissare la sorte di nea effettivamente può condividere con Didone la fondazione della sua nuova patria ancora abbiamo detto che non è chiaro dove deve fondare nea avvagato già per mezzo mediterraneo cercando una patria dove fondare la nuova troia le due idee giunone e venere sembrano in qualche modo essere d'accordo nel fissare in cartagine la nuova patria di Enea c'è una battuta di caccia c'è una tempesta i due si rifugiano in una grotta e si scambiano finalmente si palesano i sentimenti gli uni degli altri l'uno con l'altra ma ecco lì il problema Mercurio è inviato dal Giove per richiamare Enea al suo dovere alla missione fatale nel senso più pieno del termine cioè quella di fondare l'Italia fondare Roma e non è cartagine il luogo quindi il Pius Eneas non può far altro che allontanarsi dalla donna alla quale ha appena dichiarato il proprio amore perché deve obbedire alla volontà degli dèi e quindi in segreto comincia a preparare la partenza dei Treviani e allora Didone informata dalla fama insomma comincia il dramma di Didone su questo appunto mi piace fermarmi perché l'eroe del fatto lo vediamo proprio in questo frangente perché appunto Didone affronta direttamente su questo è bello perché non c'è un sotterfugio ci siamo amati e adesso tu stai fuggendo di nascosto lo affronta direttamente su questo la donna è più forte forse dell'uomo stesso loro impropera con chiare lettere speravi o perfido attenzione perfidus è un aggettivo pesante come sarà il cronodellis verso 311 perché perché perfidus è colui che viola la fides attenzione catullo il fetus fides perfidus appartiene al lessico elegiaco siamo d'accordo perché lo stesso catullo nel carme 64 uno dei carmi adotta così definisce teseo ed è ariana a definirlo in questo modo perfidus è interessante no? per cui speravo perfido di poter dissimulare una tale infamia e di allontanarti senza parole della mia terra non ti trattiene il nostro amore e la mano che un giorno mi desti e di doni ostinata a morire amaremente sotto le stelle invernali prepari la flotta e ti appresti a prendere il largo in mezzo agli aquiloni o spietato cronodellis quindi anche in una situazione diciamo così di navigazione pericolosa ti muovi lo stesso quando tutto inviterebbe a fermarti se mai non cercassi terre straniere e ignote dimore e sopravvivessi l'antica troia andresti a troia con le navi sul mare tempestoso come per adesso il rimprovero sembra essere quasi meteorologico guarda non ti conviene partire adesso con questo con questi venti ma ovviamente è molto più profonda la la il rimprovero di 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 data d'extra guonda un tempo mi hai dato la mano il nostro matrimonio è stato consumato dove vai dove scappi perfido uomo cuci me ti prego per queste lagrime per la tua destra poiché null'altro ho lasciato a me sventura a me sventurata per il nostro connubio consumato per l'iniziato di meneo sebbene di te meritaio qualcosa di me ti fu dolce abbi pietà della casa che crolla e abbandona se ancora valgono le preghiere questo pensiero ecco di donne si pone subito in un'ottica che è molto da supplica non è il rimprovo che abbiamo visto è proprio un po' amaro diventa super che rimane una donna innamorata e quindi quel miserere che troviamo a verso 318 indica un qualcosa di forte anche di empatico che crea con il lettore è una donna innamorata non può passare come se fosse un semplice switch dall'amore all'odio anche se sono due sentimenti molto simili e vicini però rimane una donna innamorata quindi guarda io non posso farcela senza di te abbiamo passato momenti belli insieme non puoi dimenticarli così con uno schiocco di dita almeno lasciami sarebbe bello se tu potessi lasciarmi una parvenza di te poi gli chiede un figlio almeno se stringessi fra le braccia un figlio avuto a te prima della fuga se giocasse per me nella corte un piccolo enea che almeno richiamassete nel volto certo non mi sentirei sorpresa abbandonata del tutto ecco questo deserto è interessante perché è ormai un'esplicitazione possiamo dire della consapevolezza della perdita ormai irreparabile che di dove vive di enea e ancora la risposta di enea questo sì che ci colpisce è durissima perché perché è pius perché è un eroe del fato fugge a quello che è un rischio il rischio di cancellare la gloria personale e della sua discendenza attraverso la fondazione di roma e con questo tradisce quello che è il proprio sentimento d'amore ma tradisce anche ovviamente l'amore di didone però non lo fa in maniera fredda non lo fa in maniera asettica non è un burattino nelle mani degli dèi è una sfida è una sfida che l'uomo pius in virtù del sentimento che prova che manda la videoazione che faremo sulla pietas specificamente dedicata a questo però appunto è un prezzo forte quello che viene richiesto anche Nea è innamorato anche ad Enea piacerebbe restare e fondare la propria patria lì a Cartagine e questa sofferenza interiore si manifesta in una titubanza e questo è la novità di Virgilia questa novità del rispetto agli eroi tutti d'un pezzo che troviamo nell'Iliade e nell'Odissea disse così Didone egli Enea teneva gli occhi immoti ai comandi di Giove ecco qua ho messo questo colore un po' triste in grigio quello che è il fato il fatto che è rimovibile quella linea oggettiva di cui prima parlavamo alla quale Enea sempre si attiene teneva gli occhi immoti ai comandi di Giove e premeva con sforzo la pena nel cuore con quest'altro colore ti ho indicato invece l'altra aspetto qua di deuteragonismo proprio non possiamo parlare in senso stretto però certamente non è un burattino non è un burattino che risponde ai comandi degli dèi che gli ordini risponde risponde affermativamente ma premeva con sforzo la pena nel cuore infine rispose brevemente questo pauca pure è interessante che verrà ripetuto a qualche verso successivo a 337 dove dice re paula pauca locuar che è una formula tecnica proprio del linguaggio giuridico è una replica puntuale quindi mi sono stato accusato di qualcosa ti rispondo in quest'altra maniera cara didone rispose brevemente non è freddo però ugualmente rimane abbastanza insensibile per quanto tu possa enumerare moltissimi meriti già mai negherò che li avesti o regina ne mi dovrò di ricordare elissa dicevamo prima il vero nome di didone finché mi ricordi di me e lo spirito mi regga le membra quindi ti ricorderò per sempre finché campo del fatto di ero brevemente cioè delle tue accuse rispondo brevemente non speravo non credere di tenerti nascosta alla fuga nemmai per fersi fiaccoli non sali o giunsi a questi legami quindi nega di aver stretto un patto nuziale durante la tempesta durante la notte avendo passato una notte intera con didone in una carotta nega se i fati permettessero a ciò che io che io conducessi la vita secondo i miei auspici i miei desideri o placassi da me gli affanni prima sarei di nuovo nella città di Trovia con le dolci reliquie dei miei e l'alto palazzo di Priamo si ergerebbe e avrei ricostruito per i vinti Bergamo caduta due volte allora quello che ci colpisce è la mancanza assoluta di dato cioè se veramente potessi potessi in qualche modo qualcuno potesse esaudire i miei desideri me ne sarei a Troia me ne starei a casa mia e quindi manca un panente di dato perché magari avrebbero dovuto dire magari anche fingendo beh sì se qualcuno se veramente il fato fosse stato diverso mi sarebbe tanto piaciuto rim stare con te ma purtroppo non posso e invece no nega nega completamente ci interessa per questo lo leggiamo in latino ti ho messi così in rilievo da verso 340 a questo lungo periodo ipotetico del terzo tipo dell'irrealtà tra le appunto dei congiuntivi o imperfetti o più che perfetti che sono appunto propri del periodo ipotetico del terzo tipo dell'irrealtà perché evidentemente non si può tornare indietro nel tempo e nea non può scegliere il proprio destino quello che notiamo appunto è la mancanza di tatto totale nei confronti di didone non come scusa ma non segue la pietra se nea rivela i veri motivi del suo gesto guarda che ora anche il messaggero degli dèi mandato da giove lo giuro sul capo di entrambi vi porta comandi per l'aria veloce io stesso vi di il dio nella chiara luce penetrare i muri e ne accolsi con questi orecchi la voce smetti questi sono due versi tremendi smetti di inasprire me e te con il pianto l'italia non spontaneamente io cerco è bello è bello perché ci fa capire appunto che c'è uno sforzo interiore da parte di nera non sponte segua l'italia ma quindi non spontaneamente sono obbligato è il fato uomo del fato l'eroe del fato ci lascia un pezzo di cuore a cartaggine è indubitabile però c'è una linea sovra personale diciamo prima che lo spinge a muoversi a questo punto non è più un dialogo ma sono due monologhi cioè sono due logiche che non collimano mai Didone ed Enea evidentemente per cui davanti a questa esplicitazione dei motivi del gesto da parte di nera Didone non può rispondere ancora più arrabbiata ma non è un problema di arrabbiatura o meno che rivela proprio quell'orizzonte diciamo prima tragico non epico ma tragico della sua indole che davanti al fato è destinata a soccombere non ti hai madre un'idea o perfido a te se ritorna questo aggettivo né fondatore della stirpe di Ardano ma il cauca in questo caso irto di dure rocce e ti porso le mammelle tigri e ircani perché dissimulare o riservarmi da fronti maggiori forse gemette il mio pianto occhino agli occhi forse vinto verso una lacrima o commiserò l'amante quale onta è peggiore di questa ormai la grande giunone il padre saturno non guardano con occhi giusti quindi qualcosa di quasi oltraggioso nei confronti vedremo che tornerà a questo nei confronti degli dei la realtà è dovunque malcerta tides attenzione caposaldo del mos majorum dice Didone Enea ha distrutto quest'asse portante del sistema valoreale del mondo romano e gli ectum litero quindi naufra ho bisogno di tutto ti accolsi folla ancora una volta torna a questo demens io Didone sono vittima di un sentimento che mi ha reso demente appunto folle ti posi a parte del regno salvai la flotta perduta e i compagni della morte io che ho fatto tutto questo perché così vengo ripagata continua questo oltraggio nei confronti degli dei l'ira mi arde e mi travolge adesso l'augura pollo gli oracoli dell'alicia il nuncio degli dei mandato da giove porta orribili comandi per l'aria lo valore di un dio che porta orribili comandi questo travaglia dei ecco distruggere il mio amore questa è la preoccupazione che hanno gli dei un tale affanno conturba la loro quiete loro che stanno nell'olimpo a godersi la pace sono invece preoccupati che il mio amore non si compia questo è qualcosa di quasi blasfemo messo in bocca a Didone ma non ti trattengo non confuto le tue parole va insegui l'italia nei venti cerchi il regno sulle onde ti auguro ecco qua comincia la cupa profezia ti auguro se i numi pietosi possono ancora qualcosa di scontare la pena tra gli scogli di invocare spesso per nome Didone ti inseguirò lontana con neri fuochi e c'è in parte l'anticipo di quello che avverrà dopo e quando la fredda morta avrà separato le membra dall'anima ti sarò fantasma dovunque omnibus omnibus locis interessanti subirai il castigo malvagio sta parlando a un uomo che ha la protezione del fato per cui vediamo come sono proprio due mondi che si vanno scontrando con ragioni dell'una e ragioni dell'altra saprò e la fama verrà tra i mani profondi quindi lo saprò se farai questa fine poi vedremo nel sesto libro la catabbasi quello che succederà conciò interrompe il discorso affranta fugge la luce si volge e si sottrae lo sguardo lasciandolo molto esitante ecco questo è un altro brano che mi interessa sottolineare perché? perché noi troviamo ancora una volta questo questo participio kunctans collegato con Enea che di nuovo non è burattino meccanico nelle mani degli dèi ma soffre è titubante lontanissimo ormai dalla staticità dalla fissità omerica degli eroi omerici vorrebbe qua ce lo dice molto esitante nel timore e intento a dire molto vorrebbe parlare vorrebbe dire ma non lo fa le ancelle la accolgono riportano sul talamo marmoreo il corpo svenuto e lo taggiano sui cuscini che fa Enea? ecco Enea se ne va ma il più Enea sebbene desideri calmare la dolente l'ho messo sempre in rosso le cose legate all'amore l'ho messo appunto con questo evidenziatore vicino al rosso sebbene desideri calmare la dolente e confortarla allontanare con parole le pene molto gemendo Enea molto gemendo e con l'animo vacillante vabbè factus interessante per il grande amore tuttavia ecco ho messo in grigio con un altro colore tuttavia esegui i comandi di Dei è una flotta quindi rimane uomo del fato uomo obbediente al volere degli dei è interessante perché qual è la lezione di umanità che ricaviamo a Keptom per ogni uomo di ogni epoca anche per noi è difficile separare il torto dal diritto chi ha ragione in questa disputa chi ha torto in questa disputa così forse istintivamente ci avrebbe da dire che ha torto Enea però Enea è Pius però Enea è venuto Mercurio con gli ordini di Giove e può dire vabbè no Giove tu stai tranquillo in cielo io qua mi faccio la mia famiglia con Didone anche lui ha le sue ragioni no? Pascaliana memoria però nel caso specifico appunto l'allontanamento di Enea è pienamente legittimo resta evidente a Didone e anche a noi che c'è stato un inganno un tradimento ecco maestro di humanitas perché ogni verità che viene calata nel quotidiano nel vissuto si presenta contraddittoria non stiamo parlando di verità stupide verità profonde verità esistenziali no? e quindi applicarle per ciascuno di noi diventa a volte complicato diventa a volte porta con sé conseguenze che sono a volte dolorose per le parti coinvolte a chiudere la tragedia di Didone perché di tragedia parliamo è appunto il suicidio ormai la flotta troiana sta prendendo il largo la regina dice alla sorella di allontanarsi perché vuole bruciare tutto quello che gli ricorda Enea no? per cui tutti gli oggetti che questo maledetto perfidus troiano ha lasciato vuole bruciare una sorta di rito magico con cui bruciando gli oggetti ci si dimentica della persona magari no? fosse così lo storico Timeo aveva dire Timeo di Taurmenia uno storico greco del quarto terzo secolo avanti Cristo aveva narrato il suicidio di Didone no? che per sfuggire alle odiose nozze con il re dei libbi appunto si era suicidata secondo Virgilio invece la regina si uccide con la spada di Enea lasciata appesa al talamo guarda caso e neanche questa era una novità dolci spoglie finché il fato e il dio permettevano accogliete quest'anima e liberatemi da queste pene ho vissuto e percorso la via che aveva assegnato la sorte e ora la mia ombra gloriosa andrà sottoterra ho fondato una splendida città bello questo perché davanti alla dolcezza perché sono dolci comunque le spoglie ciò che resta di Enea riporta la memoria dei ricordi dolci ma ecco questo mi sembra interessante sta stilando un bilancio della propria esistenza dove accanto alle dolcezze del ricordo amoroso c'è però la presenza di questi quattro perfetti che troviamo appunto in questi versi per indicati che in qualche modo ci fanno capire che questa vita è stata vissuta a pieno ho vissuto ho percorso la via che aveva assegnato la sorte e ora la mia ombra non lo arrivo sandra sotto la terra ho fondato una splendida città statui ho veduto mura da me costruite vidi vendicato lo sposo pulito il fratello nemico interessante recepi ulta la vendetta felice troppo felice se solo se solo le navi d'ardania non avessero mai toccato le nostre vie se non fosse mai entrato in contatto con me Enea disse e premendo le labbra sul letto moreremo invendicate ma moriamo esclamò così desidero scendere fra le ombre beva questo fuoco con gli occhi dal mare il crudere d'ardania porti con sé un'edizione della mia morte è interessante perché anche c'è un dato retorico interessante questo poliptoto di moriremo moriamo interessante perché è un plurale maiestates in cui appunto c'è il futuro e il congiuntivo esortativo per cui abbiamo deciso di ucciderci uccidiamoci c'è questa geminazione sic sic proprio così proprio così desidero di scendere fra le ombre questo è quello che ho sempre sognato modelli e modelli tragici ce ne sono quanti ne vogliamo parliamo dell'Iace di Sofocle l'Alcesti la Medea di Oripide che appunto si danno la morte con un oggetto che è correlato con il chiamiamolo così nemico invece che dietro c'è tutta una lettura una rilettura della tragedia greca quindi Virgilio in questo momento sta entrando in competizione non solo con Omero ma con tutta la più grande letteratura greca sì ma è importante questo dato che fa parte di un discorso che abbiamo sviluppato in queste video lezioni in generale su Virgilio quindi scaglia questa ultima maledizione contro il traditore ma ecco lì che emerge ancora una volta il pensiero all'amato Didone è personaggio tragico pieno di contraddizioni Aureat Unc Oculis Ignem Crudelis il pensiero va a questo uomo che si sta allontanando che quasi possa rimpiangere la memoria bella di Didone mentre se ne sta andando lui traditore ecco questo mi sembra pur nella complessità mi accorgo del discorso però hai capito in che senso in che modo Enea è eroe del fatto e come si scontrano questa linea oggettiva questa linea narrativa oggettiva dettata dalla ineluttabilità del fatto con tante invece tensioni interne chiamiamo appunto linee soggettive della tragicità che appunto innervano molti dei personaggi di Didone è più importante per questo abbiamo dedicato così tanto tempo innervano molti dei personaggi che troviamo nell'opera e questo ce la rende estremamente vicina alla nostra sensibilità novecentesca alla prossima